Oggi in veste di relatore per il gruppo PL Rubino Vision Tech, parleremo di questi due nuovi prodotti, cioè nastri dentati dolfine e guida dentata Shark Drive, nuovi ibridi sincronizzati. Per chi non dovesse conoscere il gruppo, la Vision Tech è un'azienda che fa cinghie dentate ad anello continuo senza interruzione di cavo, mentre la PL Rubino fa nastri trasportatori semplici e sincronizzati, quindi prodotti di nuova generazione. Cominciamo subito a parlare con i nastri dolphin, questi sono nastri dentati sincronizzati, il marchio è registrato. I nastri dentati dolphin sono fondamentalmente un ibrido tra i nastri trasportatori e le cinghie dentate. Abbiamo preso le migliori peculiarità dei due oggetti, dei nastri trasportatori abbiamo preso la superficie esterna, quindi il poliuretano, l'attrito, la superficie a contatto con il prodotto, mentre per quanto riguarda la cinghie dentata abbiamo preso il passometrico, il dente e quindi la sincronia. Abbiamo messo insieme questi due oggetti e abbiamo appunto creato un brevetto che si chiama dolphin. Noi non rivestiamo la cinghia con un polimero con il nastro, piuttosto creiamo il dente sul nastro, questo ci dà la possibilità di avere un monoblocco, ci dà la possibilità che il prodotto sia performante e non si scolli. A differenza di una cinghia dentata classica, questo oggetto non ha il cavo d'acciaio all'interno che rappresenta l'elemento di trazione, ma al posto del cavo una parte della trazione viene fatta dalla tela del nastro, mentre l'altra parte dal cavo in Kevlar che viene inserito all'interno della produzione a metraggio. Il cavo in Kevlar conferisce all'oggetto una buona resistenza alla trazione e nello stesso tempo lo lascia abbastanza flessibile perché il concetto principale di questo oggetto è la sua flessibilità. Le caratteristiche di questo oggetto sono diverse, quindi abbiamo già visto un po' il sincronismo, la flessibilità, ma anche le personalizzazioni e la versatilità. Sono versatili perché realizzati, come vediamo, con caratteristiche superficiali esterne molto differenti tra loro. Per noi il nastro trasportatore, quindi la tela che normalmente vediamo per intenderci correre sulle nostre macchine automatiche o su un banco cassa del supermercato, rappresenta fondamentalmente la materia prima sul quale poi noi coleremo questi denti. E quindi le caratteristiche superficiali sono relative alla resistenza all'abbersione, antiolio, non microscopici, antibatterici. Siamo stati costretti, arrivato a un certo punto della nostra produzione, a dividere due aspetti differenti di questi oggetti. Quindi oggetti legati al mondo dell'alimentare e del farmaceutico, e quindi food, e oggetti multipurpose che servono più che altro al packaging più generalmente. Ma all'interno di questa gamma di produzione serviamo i più svariati settori merciologici, quindi possiamo arrivare sicuramente anche all'industria del legno, perché no? Come detto prima, sono flessibili proprio grazie all'assenza di cavo in acciaio, e quindi possiamo utilizzare questi oggetti per fare innumerevoli flessioni e controfessioni, girare su piccoli diametri eliminando l'effetto poligono che deteriora e potrebbe causare un'apertura dell'aggiunta, perché questi nastri sono aggiuntati, quindi sono prodotti a metraggio e poi vulcanizzati sotto una pressa. Simulano talmente bene i nastri, le cinghie rettate, che girano su delle puleggie commerciali. Attualmente i nostri passi, quello che riusciamo a produrre, è quello che noi riusciamo a produrre con le cinghie flex, quindi con le cinghie senza aggiunzione, cioè il T5, il TV10, un nuovo passo brevettato che adesso vedremo, il T10, la T10, il TV20, il T20 e il passo H, che poi è l'unico passo in pollici. Per rendere ancora più performanti questi oggetti ci siamo resi conto, per via delle lavorazioni meccaniche che dovevamo fare sul dente, che era necessario abbassare ancora di più il diametro minimo della puleggia. Ed ecco che abbiamo brevettato questo particolare tipo di dente, lo vediamo qui, abbiamo sezionato il dente in modo tale che abbassiamo al minimo, quanto più possibile, il diametro della puleggia in flessione e lo apriamo nel momento in cui gira al contrario. Questo è molto importante, in più un passo del genere può avere delle lavorazioni meccaniche che poi vedremo. Il mondo delle cinghie dentate, per chi insomma un po' ne mastica, è soggetto spesso a delle lavorazioni meccaniche, quando le cinghie dentate non vengono utilizzate per la trasmissione di potenza. Queste lavorazioni meccaniche possono essere appunto fuori di aspirazione, saldatura listelli, falsi denti, quindi l'asportazione di un dente per inserirne uno in metallo ed avvitare un tassello, quindi per lavorare magari con un pick and place, piuttosto che con un evacuatore. Le stesse lavorazioni meccaniche che facciamo sulle cinghie dentate possono essere fatte sui nastri dentati dolfini. Quando posso utilizzare, è la classica domanda che mi viene fatta, quando posso utilizzare questi oggetti? Quando abbiamo elevate velocità e innumerevoli controflessioni, perché dobbiamo evitare? Perché in questo caso non abbiamo il cavo, quindi non si rompe, ma soprattutto quando ho la necessità che il rivestimento esterno non si scolli. Questo è molto importante perché normalmente le cinghie dentate che noi rivestiamo, o che vediamo rivestite, vengono rivestite con dei collanti. I collanti si seccano, i collanti crepano, si deteriorano e il rivestimento viene via. Quindi abbiamo aumentato notevolmente la durata, diciamo così, del rivestimento. Alcune informazioni tecniche che sono poi le classiche per utilizzare bene questi nastri dentati. Allora, innanzitutto, come detto prima, girano su delle puleggie dentate commerciali, per cui le andremo a scegliere da un catalogo. Il sistema del trasporto, a differenza di quello che succede normalmente nelle cinghie dentate, avrà solo una puleggia motrice, mentre tutte le altre sono folli. Hanno un tensionamento che varia dallo 0,2 allo 0,8%, e tutte le puleggie avranno delle flange con un'apertura di 30 gradi. E se sono troppo stretti, con un tenditore a molla. Fondamentalmente queste sei considerazioni, questi sei accorgimenti tecnici, sono fondamentali per il buon funzionamento di un prodotto, che è sicuramente un ibrido, però è altrettanto vero che è un prodotto molto molto recente. Abbiamo una storia applicativa importante, molte delle nostre aziende, le più importanti, insomma nel panorama bolognese, utilizzano già questi oggetti con un discreto successo. Ogni prodotto ha una scheda tecnica, tutti i vostri prodotti hanno una scheda tecnica, anche questo prodotto ha una scheda tecnica importante per scegliere la superficie di attrito, per scegliere il passo del dente, per capire se ci sono delle normative particolari indispensabili, se vanno a contatto con prodotti alimentari sfusi, e tutto quanto è necessario per applicare al meglio questi oggetti. Possiamo utilizzare i nastri diventati Dolphin da un minimo di 8 mm fino a un massimo di 150 mm. Oltre questo limite dobbiamo cambiare oggetti. E' possibile oggi sincronizzare i nastri trasportatori, oltre i 150 mm, con gli Shark Drive. Gli Shark Drive sono dei nastri sincronizzati, questa frase è molto bella, dice un concetto moderno di nastro per trasportatore che prevede il controllo della tela in ogni attimo del suo moto. Oggi io posso inserire, come si vede in questa fotografia, una guida positiva sotto il nastro, abbassando con un diametro di puleggia sia dell'albero motore che della condotta molto piccola. Posso contare il numero di passi mentre questo nastro gira, posso effettuare delle operazioni ogni 50, 100, 150 passi, oppure ogni dente, non importa. Però ho il pieno controllo di questo oggetto. E questo mi serve per... E' una richiesta che ci proviene dal mondo dei costruttori di automatismi industriali, visto che adesso controllano tutto, l'importanza di controllare il nastro e quindi il prodotto che esso trasporta. I vantaggi delle Shark Drive sono tantissimi. Quindi, ripeto, per chi usa i nastri sa cosa significa non avere un nastro che non slitta. Non slitta perché ingrana in una puleggia. Non sbanda perché la guida centrale fa anche da antisbandamento. Meccanica del trasporto poco sollecitata, quindi non dobbiamo trazionare il nastro più di tanto in quanto deve ingranare all'interno di una puleggia. Eliminiamo i controrulli necessari per fare in modo che non slitti. Eliminiamo la gommatura del rullo e abbiamo la possibilità di utilizzare dei nastri strutturati con una superficie operata molto particolare. Questo si traduce semplicemente in un abbassamento del costo della macchina, dell'impianto, del trasportatore al nastro, perché eliminiamo un sacco di carpenteria. Il concetto principale passa all'interno di questa puleggia, la vediamo nella sezione. Qui abbiamo all'interno una puleggia dentata solidale all'albero motore, mentre i rulli sono fogli e posizionati su cuscinetti, perché era inevitabile, dovevamo dividere le forze in gioco, parte del nastro, parte della scinghia. Non è stato semplice arrivare a questa considerazione. Ecco qui vediamo una fotografia, qui vediamo un rendering, e poi qui una fotografia, ecco qua, l'applicazione, la puleggia dentata, e vediamo poi i rulli folli. Qui la penna è molto piccola, in questo caso abbiamo utilizzato un 15 mm, utilizzare un 15 mm su una guida sincronizzata, su una cinghia che va al passo, è praticamente impossibile. E niente, tutti i nostri prodotti sono perfettamente integrabili tra di loro, visitate i nostri siti, piererubino.it e visiontech.it, dove c'è tutta questa documentazione scaricabile. Grazie. 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 Grazie.